pillole di teologia di fulvio ferrario e amiche cari amici in ascolto benvenuti e benvenuti per questa seconda puntata che la trasmissione di radio bequit pillole di teologia dedica al credo della chiesa io sono fulvio ferrario pastore della chiesa valdese la volta scorsa avevamo parlato del significato del verbo credere abbiamo illustrato la prima le frasi del credo credo in dio mi vorrei soffermare sulle parole che seguono precisamente padre onnipotente creatore del cielo della terra di tutte le cose visibili e invisibili in che senso dio e padre diciamo che nella nostra cultura è meno ovvio che in passato molti e molte di noi si chiedono ma questa immagine paterna non è per caso unilateralmente maschile non favorisce cioè una mascolinizzazione una maschilizzazione di dio dio padre non è forse anche un padre padrone effettivamente il credo voleva dire qualcosa di completamente diverso questo è vero cioè l'idea che dio non è caratterizzabile per via sessuale è sempre stata abbastanza evidente nella tradizione biblica però la fede vive di immagini ed effettivamente l'immagine del padre è legata a un immaginario maschile il quale poi è rincarato nella sensibilità comune dall'aggettivo onnipotente onnipotente è colui la cui potenza non è limitata e qui forse le istanze che oggi vengono presentate per una rilettura tanto della categoria della paternità quanto della categoria della maternità risultano importanti qualcuno dice oggi dio è padre e madre che cosa significa significa per comprendere le storie della bibbia sono in ultima analisi offrono il contenuto alla parola dio è utile utilizzare tanto immagini maschili quanto immagini femminili io penso che questo sia vero tradizione cristiana normalmente ha cercato di evitare tanto immagini maschili quanto quelle femminili e dire dio è al di là della sessualità risultato è che quelle femminili sono davvero sparite mentre quelle maschili sono rimaste e dio è diventato il vecchio signore con la barba che domina nelle immagini questo effettivamente è stato un impoverimento dell'immagine di dio immagine della paternità offre alcune cose per esempio è legata all'idea della stabilità è legata per certi aspetti all'idea di una forza di una persistenza immagine femminile è più legata tradizionalmente all'immaginario della tenerezza ma in realtà noi oggi forse siamo in grado di rileggere tanto l'idea del padre che può anche essere fragile e tenero quanto l'idea della madre che può anche essere forte e fonte di stabilità per le figlie e per i figli dio certo nel credo è il padre di gesù cristo l'immagine paterna si imposta anche soprattutto perché è quella che usa gesù credo che oggi noi abbiamo da guadagnare includendo immagini e metafore femminili e materne dio è padre ma anche madre questo forse getta anche luce sull'altro sull'altra parola sull'aggettivo onnipotente padre onnipotente che cosa vuol dire non vuol dire un dio del quale devo aver paura l'onnipotenza di dio come la racconta la bibbia questo dio non è al di sopra della sofferenza dio non è al di sopra del dolore la storia di dio è anche per lui una storia di per lui o per lei una storia di fallimenti e di sconfitte dio può essere sconfitto nella bibbia la croce di gesù dio partecipa alla sofferenza del mondo onnipotenza di dio è che queste sconfitte e questi fallimenti non sono l'ultima parola dopo o nel cuore del fallimento c'è una possibilità inesplorata e genera futuro questa è l'onnipotenza di dio la morte la sconfitta il fallimento non sono l'ultima parola non solo dopo al di sopra ma nel cuore di esse si cela il seme di quella che la bibbia ama novità di questo padre è anche madre questo dio onnipotente conosce personalmente tragedia la morte questo dio che è in grado di sprigionare il futuro anche là dove l'ultima porta sembra essere chiusa è proclamato dal credo come creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili invisibili cioè creatore della natura e di ciò che oltre alla natura noi non conosciamo creatore di tutto ciò che esiste significa questo beh intanto non si tratta diciamo è più facile dire che cosa non significa non significa che eh dio sia colui che ha messo la pallona o la pallina e poi è esplosa in quello che oggi si chiama il big bang e neanche le fluttuazioni quantiche eh che erano prima che il tempo fosse eccetera eccetera dio cioè non è una specie di tappabuchi che noi poniamo laddove eh la scienza dice di fermarsi noi pensiamo che si fermi creazione non vuol dire soltanto e neanche principalmente che dio è il fabbricante per così dire dell'universo creazione vuol dire che fede comprende il mondo in relazione a dio cioè il mondo che noi vediamo è il mondo in cui dio è presente dio non è presente solo al di là ma anche al di qua cioè dio non è presente solo nello spirito ma anche nella materia dio non è presente solo nell'eternità ma anche eh nel tempo il mondo noi vediamo il mondo nel quale viviamo il mondo che noi tocchiamo è il mondo di dio la fede non ci proietta in un altro mondo rispetto a quello eh materiale la fede vive esattamente nel mondo nel quale vivono tutti questo naturalmente pone oggi molte domande il mondo ci è presentato dalla scienza come eh senza un perché mondo dominato dal come è stato detto autorevolmente dal caso e dalla necessità anche la storia sembra dominata da forze cieche che producono sofferenza senza alcun perché qual è in questo contesto il posto del creatore dio dov'è cosa fa per accompagnare le sue eh creature in un mondo così difficile così tragico questa domanda con tutta la sua forza è stata definita da un poeta dell'ottocento la roccia dell'ateismo l'ateismo si dice trova la propria più profonda giustificazione nel fatto che il mondo non è appunto creazione ma è privo di senso creazione vuol dire che il mondo è stato voluto mentre ci viene detto dall'arte da molta letteratura e dalla scienza ripeto che il mondo non ha un perché quindi non è frutto di una volontà quindi non ha per usare una parola alla quale molti di noi sono assai legati non ha un senso non ha un da dove non ha un verso dove la fede dice il contrario se lo dice dove trova le ragioni per dirlo e la fede non si presenta come un sistema alternativo rispetto eh questa negazione del perché e del senso del mondo della storia fede individua in una vicenda specifica ragioni per non arrendersi di fronte al non senso questa vicenda conosce la sofferenza e la morte la vicenda di Gesù l'idea però è questo afferma la fede che in questa vicenda ci sono risorse non per risolvere tutti i problemi o per chiarire tutti i dubbi ma per camminare attraverso di essi in quell'atteggiamento che viene chiamato appunto fiducia in un atteggiamento che può essere non di disperazione che può essere costruttivo la storia di Gesù può costituire una bussola per muoversi in un mondo a prima vista certamente oscuro e quindi che la fede nella creazione non può essere ridotta a una ideologia generale che risolve tutti i problemi anzi in realtà più che di fede della creazione vorrei parlare di fede in dio creatore la fede in dio creatore vuol dire che quello che si manifesta in Gesù Cristo può aiutarci a camminare attraverso quanto del mondo ancora non comprendiamo e attraverso quanto nella storia si presenta come tragedia volevo però dedicare queste considerazioni conclusive di questa puntata a una questione spesso legata alla discussione intorno alla creazione e all'identità creatrice di dio cioè la questione del rapporto tra fede e scienza è una lunga storia una storia per certi aspetti infelice legata a polemiche a grandi sofferenze legata anche a repressione parte della chiesa in passato oggi legata a una certa sufficienza con la quale il mondo che vive della scienza che dice di vivere della scienza anche se poi magari legge l'oroscopo tutte le mattine eh questo mondo parla della fede quindi come di una cosa superata eh la fede appartiene a tempi oscuri ora di fronte alla luce della scienza c'è più nemmeno posto per la fede è un po' il messaggio che emerge per esempio non tanto dalle ricerche scientifiche in quanto tali ma dalle pagine culturali eh non so dei quotidiani ad esempio dove si parla di scienze e filosofia scienza e cultura fede e scienza non si pongono sullo stesso piano fede è una relazione con la domanda relativa al perché dell'esistenza una domanda che trova nelle storie della bibbia parlano della liberazione di dio possibilità di una risposta questa è la fede una relazione con dio mediata alle storie bibliche che parlano di lui la scienza è una descrizione del mondo estremamente efficace e che metodologicamente in linea di principio prescinde da dio è un po' come se io fossi al tempo stesso un ginecologo e un marito in quanto ginecologo eh esamino la situazione di salute di mia moglie prescindendo completamente dalla mia relazione affettiva con lei questo non significa che il ginecologo non sia anche un marito innamorato significa che mentre fa il ginecologo non può fare il marito mette tra parentesi su essere marito e questo è nell'interesse di una buona ginecologia esattamente lo stesso è il rapporto tra eh la fede e la scienza esse parlano dello stesso mondo la fede non vive normalmente di visioni illuminazioni io non sono mai stato catapultato direttamente in paradiso per essere informato da dio su come è fatta la realtà il mondo che io vedo e che io sperimento è lo stesso sperimentato dai miei contemporanei e dalle mie contemporanee che non credono in dio ma ritengo che le descrizioni di questo mondo che prescindono da dio e che sono molto utili la mia vita che sono la condizione di possibilità della tecnica queste descrizioni non esauriscano la realtà cioè la realtà è più grande della realtà che io posso descrivere il resto è così anche per le scienze stesse se io mi occupo di fisica descrivo la realtà prescindendo ad esempio la realtà di un essere umano prescindendo dagli aspetti che riguardano ad esempio la psicologia questo non vuol dire che la psicologia non esiste appartiene semplicemente a un altro piano e già così all'interno delle scienze tutto più per quanto riguarda il rapporto tra le scienze e altre facoltà fede vive un po sullo stesso piano sul quale vive ad esempio l'estetica il bello non è descrivibile modalità scientifiche un quadro di van gogh può benissimo essere esaminato ad esempio dal punto di vista chimico questo però non lo esaurisce naturalmente non è che van gogh sia oltre la chimica quasi che esista un van gogh metafisico per così dire che non è nel quadro fatto di colori fisici questi colori fisici possono essere letti al di là la fisica la fede vede la stessa realtà vede o includendo dimensioni che la scienza in linea di principio esclude questa esclusione metodologica non dice nulla circa la realtà e la verità queste altre dimensioni il ferraio vi ringrazia per la vostra attenzione al termine di questa puntata forse un po più complicata di altre e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione di pillole di teologia pillole di teologia di fulvio ferrario